La Fidelisandria è nel peggior momento della sua stagione. I numeri direbbero di sì. 4 K.O. di fila, come mai accaduto nemmeno durante la gestione Cudini, un solo gol segnato su calcio di rigore in questo intervallo e il penultimo posto con sorpasso incassato da parte della Viterbese, eredità della sconfitta di Potenza. Il 2-1 del Viviani alimenta il filotto negativo assortito anche con i K.O. di misura contro Juve Stabia e Avellino e con lo 0-3 del Dei Ulivi contro il Latina, anche contro il team di Raffaele, si sono visti gli antichi vizi della Fidelis. Scarsa capacità di incidere sotto porta e poca cattiveria quando si tratta di difendere. La prestazione c'è stata, però prendere i gol che abbiamo preso è da Poldi e se ti vuoi salvare non puoi prendere i gol che abbiamo preso oggi. I punti in classifica sono 15 dopo 20 giornate di campionato con un più 4 sul Messina ultimo, appena 3 le vittorie a fronte di 6 pareggi e 9 sconfitte, 16 gol realizzati, 29 quelle al passivo. Il calciomercato di gennaio diventa così fondamentale per tamponare le falle mostrate dall'organico su tutte quelle nel cuore della difesa e al centro dell'attacco, dove Persichini e Scipos non sono ancora andati a segno in più di un girone. Tanto lavoro da fare per il direttore sportivo Mariano Fernandez. C'è il direttore che si sta morendo, spero che arrivino gente che portano un po' di positività e voglia di combattere, perché noi delle situazioni, delle condizioni dove siamo abbiamo bisogno di gente che hanno voglia di combattere perché c'è da lottare. Un dato su tutti lascia però intendere come i vizi della Fidelis siano a Tavici nel 2022 su 39 partite ufficiali, play-out compresi, la squadra ha vinto appena sei partite, due di queste contro la Paganese, una contro il Taranto nella scorsa stagione, tre i successi in questa annata sportiva contro Messina, Monterosi e Giuliano, numeri insufficienti per poter ambire a una salvezza tranquilla, obiettivo fissato dalla società in estate. Gennaio sarà un mese fondamentale tra campo e mercato e lo start sarà di fuoco al Dei Ulivi nello scontro diretto contro la Viterbese.